Come stai intanto? Sto abbastanza bene, è stato un periodo un po' difficile, ho avuto un periodo un po' difficile negli ultimi mesi però sono riuscito a ricondizionarmi un pochino e quindi sono entusiasta di far parte di questo gruppo con questo presidente, con questo direttore sportivo, con questo allenatore ho ritrovato con piacere tanti ragazzi che lo scorso anno hanno avuto modo di conoscere lo stesso mister Federico De Grosso, quindi sono entusiasta Sicuramente insieme a tutta la squadra sapremo toglierci qualche soddisfazione e sarò sicuramente uno dei più responsabili di questo aspetto qui però voglio dire che sicuramente il mister ci metterà nelle condizioni adatte per cercare la porta Anche per te le prime parole ai tuoi nuovi tifosi Mi ricollego un po' alle parole di Davide e Salvatore che sicuramente vedranno una squadra competitiva, una squadra con tanti giovani ma sicuramente con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare bene e di salvarci quanto prima possibile Grazie a tutti